Sono 43 gli istituti della provincia di Salerno ammessi a finanziamento dalla regione Campania nell'ambito degli interventi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici. A fare la parte del Leone il comune di Mercato San Severino con ben 9 interventi ammessi a finanziamento. A seguire Eboli e Scafati con 5, Roccadaspide con 4, Ogliastro Cilento e Nocera Superiore con 3 e Capaccio Pestum con 2. 63 invece le istanze ammesse legate ad istituti di competenza provinciale. Ora la palla passa al Ministero dell'Istruzione che dovrà dare l'ok definitivo ai finanziamenti.